Se vi sembra di aver già visto questo Zenfone 2 in un'altra recensione AndroidWorld.it non vi state sbagliando più o meno, perché in realtà questo è un altro Zenfone, lo vedete anche dal suo retro, si chiama sempre Zenfone 2 ma è la versione con 2 GB di RAM e schermo HD Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, quello che vedete davanti a voi è la confezione, quella che vedete davanti a voi è la confezione di Zenfone 2 non è un déjà vu, perché non è lo stesso Zenfone 2 che abbiamo già recensito, questo è lo Zenfone 2 per essere precisi al dettaglio è lo ZE 550 ML, ovvero la versione sempre da 5 pollici e mezzo di Zenfone 2, ne esiste anche una da 5 pollici, ma con alcune differenti sostanziali Schermo HD, 2 GB di RAM, quindi un pochino meno potente, ma anche molto più economico andiamo a vedere il contenuto della confezione, dove troviamo il cavo USB e micro USB, le stesse cuffie stereo in ear discrete che avevamo trovato anche sull'altro Zenfone 2 gli stessi gommini auricolari e per quanto riguarda l'alimentatore, vi cerco di farvelo vedere da qui, è un alimentatore da 1.35A quindi se non vado errato, questo non dovrebbe garantire la ricarica rapida, cosa che comunque lo smartphone supporta e che quindi potete tranquillamente utilizzare se appunto utilizzate un caricatore apposito noi abbiamo provato con quello di S6 e ha funzionato bene, è apparsa anche una notifica sullo schermo per farci capire che la ricarica era di tipo rapido questo è lo Zenfone 2, come vedete sembra veramente identico in tutto e per tutto allo Zenfone 2 già recensito con la differenza che la back cover qui, fatemi bloccare lo schermo, la back cover qui è gommata gommata che significa che trattiene abbastanza le impronte e soprattutto piano piano tende un pochino a consumarsi quando a forza di poggiarlo sul piano, piano piano qui nella parte centrale si tende a consumare anche perché la forma è molto stondata come l'altro modello e quindi la parte che si va ad usurare ovviamente è quella centrale possiamo rimuovere la back cover ecco qua e facendo così troviamo l'alloggiamento per la memoria espandibile e due alloggiamenti per la micro sim solo una supporta la connettività 3G e 4G, non è possibile fare lo switch fra le due sim la batteria da 3000 mAh non è removibile ecco qua sono rimasti qua dietro i tasti del volume, è rimasto sopra il tasto di accensione fotocamera 13 megapixel con due LED flash di due colori diversi nessun tasto ovviamente sui bordi sotto porta micro USB, primo microfono sopra secondo microfono e jack audio da 3,5 e davanti la fotocamera da 5 megapixel andiamo, ok, sblocchiamo il display, accendiamo il display dimensioni 152,5, 77,2, 10,9 mm di spessore, 170 grammi di peso non è leggerissimo ma nel complesso è abbastanza ben bilanciato come peso dimensioni è comunque un 5 pollici e mezzo quindi è un bel telefonone abbiamo detto supporto alla dual sim, è presente il LED di notifica allo schermo andiamo a sbloccare, non è più un full HD, è sempre un 5 pollici e mezzo ma non è più un full HD, è un HD 1280x720 pixel di larghezza funziona molto molto bene la regolazione automatica della luminosità e tra le altre cose è molto alta la luminosità massima e molto bassa la luminosità minima quindi ha un buon range di variazione teniamo la luminosità automatica perché tanto comunque riesce a essere abbastanza alta anche in questa impostazione del tutto automatica vi parlo di hardware e vi dico che questo smartphone ha un Intel Atom Z3560 quad cord o 1.8 GHz a 64 bit quindi è un altro processore rispetto... oh, vi ho mostrato per errore vi ho mostrato per errore il multiutente che adesso non so come fare a uscire ok, ho risolto con il doppio tocco sullo schermo ok la versione Android è la 5.0 per precisione mi pare la 5.0 no, 5.0 scusate, errore mio esco da qui 2 GB di RAM, 16 GB in modo interno espandibili tramite micro SD connettività LTE fino a 150 Mbps sulla prima SIM Wi-Fi ABGNAC, Bluetooth 4.0 non è presente purtroppo invece l'NFC eccoci qua se guardiamo qua è presente Play 2 che sarebbe il Miracast semplicemente un Miracast rinominato serve il multimediale che è il DLNA le impostazioni per la doppia SIM adesso basta, non me ne fai più vedere mi l'ho già fatto vedere troppe volte in cui possiamo scegliere quale SIM abilitare senza doverla ovviamente rimuovere e scegliere quale rendere predefinita per la chiamata vocale ok andiamo nella Home vi mostro un po' come è organizzata la Home la Home è organizzata a schermate laterali potete impostare lo scorrimento infinito se facciamo questa gesture possiamo scegliere quale pagina rendere la predefinita e se aggiungere altre pagine se invece facciamo questa gesture verso l'alto gestiamo la pagina verso il basso apriamo la tenda delle notifiche poi da qui possiamo continuare a trascinare verso il basso se andiamo nella personalizzazione vi faccio vedere ci sono molte molte opzioni molto comode e che permettono di personalizzare veramente al massimo questo smartphone fra cui la possibilità di modificare i pack di cone potete scaricare dei pack di cone che tra l'altro sono generici pack di cone per launcher anche diversi da quello di Asus che sono anche compatibili con quello di Asus quindi è compatibile con i pack di cone quelli generici che funzionano con un gran numero di launcher funzionano anche qui su questo Asus quindi potete veramente sbizzarrirvi effetti di scorrimento e poi se andiamo nelle preferenze vi faccio vedere possiamo scegliere la trasparenza dello sfondo delle app qua ecco qua possiamo scegliere vabbè l'animazione di scorrimento vi ho già fatto vedere abilità all'accesso alle notifiche e quindi mostrare le notifiche anche su applicazioni di terze parti che altrimenti non lo supporterebbero perché è molto molto simpatico perché appare il numerino vedete poi dopo vi faccio vedere appare il numerino sull'icona dell'applicazione possiamo scegliere la dimensione e l'estetica della cartellina delle cartelle che potete creare sulla home e anche nel drawer dell'applicazione quindi no scusate queste sono sempre le icone potete per esempio mostrare invece della 2x2 possiamo mettere la 3x3 e poi ve la faccio vedere subito ecco qua vedete la griglia è diventata più densa se poi andiamo nel drawer delle applicazioni abbiamo ancora tantissime opzioni fra cui la possibilità di organizzare per applicazioni più frequente e di creare delle cartelle smart cartelle smart vedete che capiscono nella sole dove devono stare le applicazioni e quindi è dargli un nome e le raggruppa tutte là dentro funziona devo dire abbastanza bene come vedete sono pochissime le app che sono rimaste fuori annulliamo perché preferisco l'organizzazione alfabetica possiamo decidere la dimensione della griglia io ho messo 5x5 5x5 che è quella più estrema ma di default c'è la 4x4 e poi possiamo nascondere le app e bloccare le app quindi anche qui veramente tantissime opzioni io continuo a dire tantissime opzioni perché sono veramente tante 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 e le scopriamo veramente giorno dopo giorno utilizzando questo smartphone andiamo nel browser scusate nel browser non so perché stavo dicendo nel browser delle applicazioni è lunedì mattina un po' per tutti andiamo nella richiesta sito desktop questo tasto qua giù permette di salvare il sito nel do it later quindi in una lista di cose che vogliamo leggere più tardi e lo ritroviamo in un'applicazione esterna che si chiama appunto do it later che raccoglie un po' tutto è una specie di to do list mi piace moltissimo io adoro questa linguetta che permette di scorrere i siti senza coprire con il dito lo schermo in modo veramente veloce a andare a trovare quello che ci serve browser velocissimo ecco qua guardate il tempo che ci mette a caricare la pagina devo dire assolutamente nessun problema nella navigazione web che è totalmente soddisfacente qui abbiamo ovviamente il multitasking peccato ecco difetto questi tasti qua sotto non sono retroilluminati il che è veramente una soluzione abbastanza cheap e che non si addice secondo me a quello che è uno smartphone che tutto sommato può essere considerato almeno nella versione quella top un top di gamma faccio questa considerazione così generica perché questa cosa dei tasti non retroilluminati è uguale per tutti gli Zenfone 2 quindi purtroppo questa è una scelta un po' triste applicata a tutti gli smartphone vi ho fatto vedere il browser la tastiera l'avete intravista è questa e vi faccio vedere le opzioni anche questa è veramente completissima possiamo abilitare o disabilitare la predizione della parola successiva i suoni alla pressione del tasto poi andando possiamo impostare tastiere differenti possiamo andare a gestire la direzione personale l'altezza della tastiera quanto vibrare la pressione insomma moltissime moltissime opzioni approfitto per mostrarvi una funzione che è quella di spostare tutto lo schermo in un angolo del display ma non solo in un angolo in realtà possiamo scusate ecco qua possiamo spostarlo anche al centro quindi niente ci vieta di spostarlo al centro e gestire tutto il nostro sistema quindi ad una mano quindi ovvero l'ho fatto veramente minuscolo possiamo farlo anche un pelino più grande come ce lo proponeva lui e quindi utilizzare tutto il sistema in questo modo ok ovviamente quando facciamo questa gesture ritorna come l'avevamo lasciato quindi se lo lasciamo a destra ovviamente tornerà a destra quindi destri o mancini potete tranquillamente scegliere la vostra posizione mi piace molto questa tenda delle notifiche che è molto molto completa anche se purtroppo non è possibile scendere sotto il limite delle 4 impostazioni rapide che sono queste 4 qua su che invece di essere dei toggle infatti sono verdi invece di essere blu fanno delle cose invece di attivare o spengere semplicemente una voce appunto rapido è un piccolo blocco note che ci permette anche di scrivere a mano libera ho scritto ciò una calcolatrice che si apre come app flottante questo tasto che svuota tutta la RAM e questo che ovvia semplicemente la torcia quindi si possono scegliere quali tasti mostrare ma non è possibile scendere sotto i 4 quindi 4 dobbiamo sempre tenerle non è possibile neanche scegliere 0 quindi non possiamo neanche elevarle tutte definitivamente vi faccio vedere la fotocamera che abbiamo detto è una 13 megapixel e nella fascia di prezzo di questo smartphone secondo me è la scelta migliore che potete fare mi è piaciuta veramente molto anche perché è tutto sommato la stessa del dello Zenfone 2 già recensito l'unica cosa ve la dico subito così non ci pensiamo più è lenta è lenta dopo aver scattato guardate la ruzzolina che gira lassù no invece adesso è stata ovviamente istantanea no però aspettate è lenta perché si è aggiornato si è aggiornato lo Zenfone e moltissime impostazioni sono tornate quelle di default quindi qui mi ha reimpostato vabbè vabbè anche così vediamo se è tornata a essere lenta no è molto più veloce quindi probabilmente l'aggiornamento che è uscito oggi oggi 20 aprile appena prima di fare la recensione probabilmente ha velocizzato davvero la fotocamera perché vi garantisco che era veramente lenta quindi benissimo questo aggiornamento che è arrivato oggi non sembra aver risolto il problema che fa crashare Instagram e pochissime altre applicazioni Instagram che adesso non trovo eccolo qua aspettate fatemelo mettere in ordine alfabetico se no impazzisco quindi Instagram che crasha l'avvio è un problema che è rimasto e non è stato risolto con questa versione del software e comunque sappiate che Instagram crasha anche su altri telefoni è un problema con i servizi di Google sembra non crasha solo su questo ma su questo posso garantirvi che crasha rispetto all'altro Zenfone vi confermo anzi vi faccio sapere che questo telefono non mi ha dato nessun problema di riavvii spontanei quindi non si è mai bloccato e poi riavviato come invece mi è successo sul top di gamma ok dicevo della fotocamera torniamoci un attimo perché in realtà non avevo concluso di mostrarvi volevo farvi vedere tutte le opzioni abbiamo quella manuale che ha tantissime impostazioni qua giù come le ISO come la regolazione della luminosità il calore della luce la velocità di andiamo qua la velocità di scatto con tanto di anteprima il punto di messa a fuoco ok vi faccio delle altre impostazioni HDR questa modalità luce bassa che fa veramente dei miracoli con poca luce le foto però vengono a 3 megapixel utilizza vari pixel per farne uno quindi più luminoso regolazione della profondità di campo che funziona anche questa devo dire molto bene animazione GIF per fare piccole GIF questa che è una piccola un'opzione per fare del tilt shift e poi i video al rallentatore video a 1080p quindi non arriva a registrare video in 4k qui è rimasta l'impostazione full hd non so perché questo aggiornamento ha sballato un po' di cose mi ha fatto rifare alcuni tutorial non so bene perché questo aggiornamento abbia resettato alcune delle mie impostazioni probabilmente era necessario ai fini dell'aggiornamento stesso la GPU è una PowerVR G6430 il gioco che vi sto facendo vedere ora Asphalt 8 era già in memoria l'avevo già aperto si è chiuso questo significa che a differenza dei 4GB di RAM dello Zenfone 2 nella versione quella con 4GB di RAM appunto qui può succedere che alcune applicazioni vengano chiuse direi che è abbastanza accettabile che un gioco pesante come Asphalt 8 venga chiuso quando non è in esecuzione aumentiamo un pelino la luminosità scusate ok quindi diciamo che la differenza fra i 2 e i 4GB di RAM è questa che i 4GB di RAM possono tenere in memoria qualsiasi cosa praticamente all'infinito e quando la riaprirete sarà sempre lì ad aspettarvi alzo un po' il volume ok possiamo andare nel multitasking per vedere se che cosa è rimasto in esecuzione 2GB di RAM vedete sono rimasti 300MB adesso è in cache però avevo anche avviato un altro paio di giochi che vedete non sono più in cache che quindi il sistema ha scelto di tra virgolette killare per lasciare spazio al resto del sistema andiamo nel lettore musicale se lo trovo devo dire che questa visualizzazione 5x5 a me piace molto ma non aiuta a trovare le applicazioni il fatto che sia curvo aiuta devo dire il fatto che quando lo poggiamo almeno su una superficie rigida aiuta il suono a non attutirsi ovviamente se lo mettiamo su un divano magari che è morbido allora il suono potrebbe attutirsi perché se lo speaker va tutto a coprirsi può accadere però devo dire che il volume è abbastanza buono l'audio in generale ha una qualità nella media o forse appena superiore alla media non è forse il punto più forte di tutto questo smartphone che ha tanti punti forti ma devo dire che mi ha mi ha soddisfatto della qualità fotografica non vi ho parlato caricherò un po' di sample sul sito mi è piaciuto mi è piaciuto veramente come mi è piaciuta la fotocamera dello Zenfone 2 quello con 4 giga di ram mi è piaciuto questo le foto vengono abbastanza bene forse un po' impastate quando si va a fare lo zoom ma in questa fascia di prezzo secondo me non ci sono fotocamere migliori di questa per quanto riguarda invece la riproduzione dei video dobbiamo fare capo alla galleria ecco qua andiamo a prendere il 2k che è il filmato più bello insomma un buon comparto multimediale veramente se andiamo qui in Asus vediamo che forse no non era qui ma era qui in mezzo alle applicazioni è presente la radio FM eccola lì ops e tra le altre applicazioni Asus c'è veramente da perdersi insomma ci sono queste Zen Link che sono una raccolta di applicazioni per collegare lo smartphone al pc in modi diversi pc link li diciamo li collega semplicemente per poterli gestire remote link permette di usare questo telefono come un mouse share link permette di condividere rapidamente un link fra il pc e il telefono e party link permette di collegare vari telefoni Asus con la stessa applicazione e quindi condividere le foto istantaneamente se scattate insieme siamo a una festa attiviamo il party link fra gli amici e quando scattiamo poi ci troviamo tutte le foto della festa all'interno del telefono questo è il due letter di cui vi parlavo prima l'applicazione del meteo che devo dire è veramente ben fatta molto molto bella da vedere e il risparmio energie di cui non vi ho parlato io l'ho tenuto disattivato per testare al meglio l'autonomia di questa batteria sicuramente se attiviamo l'ottimizzato riusciremo a trarre qualcosa di meglio dallo smartphone devo dire che la batteria a 3000 mAh di questo Zenfone 2 mi ha dato delle soddisfazioni abbastanza buone sicuramente migliori del modello con 4 GB di RAM ho fatto sicuramente più ore di schermo acceso se vogliamo abilitare questa ottimizzazione un pochino migliora la situazione ancora un pochino questo è il risparmio energetico quello di Lollipop classico simpatico e personalizzato che permette di vedete tenere attive delle applicazioni che utilizzano il push come l'email whatsapp facebook messenger o skype una specie di modalità stamina di sony non proprio ma simile che quindi permette di non bloccare internet in modalità di risparmio energetico ad applicazioni che magari a internet gli potrebbe fare molto molto comodo vi voglio far vedere un'applicazione che non ho fatto vedere nell'altra recensione che è asus support che ha una funzione che mi piace veramente moltissimo che no scusate questa forse si se io vado a prendere un'applicazione per esempio il browser posso vedere tutte delle fiq quindi delle informazioni in inglese sul browser se vado nel forum utente sempre in inglese vedete ci sono tutte delle funzionalità quindi vedete tipo add download support in browser oppure cannot sync browser default with my google account file download problems with browser quindi se avete dei problemi se avete un'idea buona per un per il vostro browser per esempio qui dice che questo utente ha qualche problema nel fare lo zoom play resume feature not available potete andare qui potete fare la vostra proposta e vedete qui per esempio un utente ha detto perché non implementate adblock plus dentro e asus ha detto ok lo faremo pianificato quindi potete andare qua dentro fare delle proposte possono venire approvate come non approvate o comunque potete anche solo chiedere aiuto su una singola applicazione dovete conoscere ovviamente l'inglese ma mi è piaciuta veramente molto questa funzionalità che dimostra molto l'apertura di asus verso verso i clienti secondo me asus ha fatto abbastanza male in passato per quanto riguarda aggiornamenti e assistenza sta facendo molto bene secondo me adesso con una funzione come questa con tanti aggiornamenti ne ho già ricevuti tre su questo Zenfone e tre sull'altro Zenfone perché il film è lo stesso arriva in concomitanza su entrambi i modelli e soprattutto tanti aggiornamenti delle applicazioni di asus quindi si sono aggiornate veramente molto spesso durante queste settimane di prova dei due Zenfone ovviamente messi insieme tra le altre applicazioni presenti abbiamo un autostart manager che ci permette di scegliere quale applicazioni possono avviarsi all'avvio io per esempio ho levato il permesso Clean Master e Dr. Safety che erano preinstallati all'interno del telefono queste sono le cinque app che asus ha installato di terze parti all'interno del telefono non possono essere rimosse possono essere comunque bloccate io lo lasciate solo per farvi vedere questa funzionalità dell'autostart manager è presente un simpatico fotocollage che permette di fare dei collage appunto a griglia oppure fare una piccola rivista oppure c'è anche un editor fotografico e mi è piaciuto ancora di più se lo trovo in questa quantità incredibile di applicazioni eccolo qua Mini Movie che mi permette di scegliere delle foto e dei video e farne un piccolo video riassuntivo da caricare poi dove vorrò rispetto a Lollipop vi segnalo che sono rimaste le interruzioni allora se io alzo il volume c'è il volume normale quindi non è senza interruzione questa è la modalità vibrazione se abbasso ancora c'è la modalità non interrompere quindi la modalità di nessuna interruzione se poi premo la tendina come ho fatto devo aspettare che scompaia ops premo la tendina come ho fatto posso impostare anche le interruzioni con priorità cosa che non posso fare con il bilancio del volume quindi sono rimaste tutte le impostazioni è rimasta la modalità silenziosa quella vibrazione e quella di interruzioni quindi possiamo fare abbiamo diciamo un po' tutte le possibilità è presente anche il blocco e sblocco con doppio tap lo sblocco è abbastanza ormai popolare il blocco no non è altrettanto popolare non sono molti gli smartphone che permettono di ribloccare lo schermo con il doppio tocco il che è veramente molto comodo perché il tasto qua su non è certamente la posizione migliore da dover raggiungere è anche centrale quindi fa un torto sia ai destri che ai mancini rendendolo abbastanza scomodo da arrivarci sempre parlando di gesture vi faccio vedere ci sono delle no l'ho perso ok no eccole qua scusate in questo sottomenu ci sono delle no tra l'altro sono abbastanza convinto che non fosse in questo sottomenu sono abbastanza convinto che anche questa sia un aggiornamento di oggi perché sono abbastanza convinto che non erano in questa in questo sottomenu è possibile avviare queste applicazioni disegnando una lettera sullo schermo possiamo anche cambiare quindi se io posso scegliere che S sia l'orologio quindi a schermo spento io disegno una S e l'orologio si avvia mi piace il fatto che posso personalizzare questa cosa della gesture non è una novità ma è abbastanza una novità la possibilità di personalizzare queste opzioni porto un attimo fuori lo smartphone per fare una telefonata di prova è presente anche il tasto per registrare le telefonate benvenuto nel servizio clienti Vodafone privato non ho avuto problemi nella recezione sia del segnale GSM 3G 4G né nel segnale wifi quindi mi sono trovato molto bene da questo punto di vista vi ho mostrato un po' delle funzioni perché sono sicuro che è andato a scavare io ho scavato ne ho trovate avrò fatto anche in tempo onestamente a dimenticarmele perché quando le opzioni sono così tante tenerle tutte a mente ma anche se me le fossi appuntate dirle tutte è veramente impossibile mi piace questa nuova versione del sistema di Asus molto personalizzabile molto ricca di funzioni gli manca sicuramente una funzionalità di dual windows di split screen di multi windows quello che volete ovvero di aprire due applicazioni contemporaneamente perché su un 5 pollici e mezzo sicuramente ci sarebbe stato spazio per implementare una funzione simile prezzo di vendita 249 euro questo probabilmente non è un top di gamma quanto lo è l'altro smartphone qui siamo su una fascia tendente alla fascia media quindi sicuramente stupisce stupisce un pochino meno del top di gamma da 4 gigabyte ma costa ben 100 euro meno farò poi un video di confronto fra i due modelli quindi sono sicuro che non vorrete perdervelo per capire quale smartphone potrà fare più al caso vostro questo comunque mi è piaciuto molto veramente un bello schermo non è un full hd ma è un hd ma onestamente anche ad occhio nudo guardate si riescono a distinguere benissimo tutte le icone anche le più piccole guardate si riesce ancora a leggere la temperatura dell'icona minuscola la sotto guardate quante piccole si legge ancora la temperatura di 16 gradi quindi veramente un telefono completo bello schermo bella fotocamera mi è piaciuto il software la batteria non è sensazionale ma è comunque un pochino meglio dell'altro dell'altro Zenfone quindi sono rimasto soddisfatto anche da questo punto di vista tra le altre cose anche un software più stabile rispetto a quando l'ho provato sull'altro Zenfone per questa recensione di Asus Zenfone 2 ZE 550 ML è tutto un saluto dai mamali cisotti per androidworld.it di Asus Zenfone 2